Buonasera a tutti. Avverto che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario insieme al resoconto stenografico. Avverto anche che ai sensi dell'articolo 12,2 del regolamento interno la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la relativa trasmissione via web tv. Mi corre poi l'obbligo di rammentare ancora una volta le garanzie che sono state stabilite in ufficio di Presidenza allorquando vi siano consulenti oppure senatori e deputati che seguano da remoto, come in questa occasione. In tali circostanze tutto il personale di supporto presente in aula e collegato in video, nessuno escluso, è vincolato al rispetto della segretezza di quanto dichiarato. Il Presidente è sempre in condizione di poter valutare l'interruzione del collegamento audio con i poli remoti. Qualora ciò non accada, è bene rammentare sempre che coloro i quali seguono in videoconferenza sono comunque censiti dalla Commissione con tutto ciò che ne discende in termini di responsabilità per eventuale divulgazione e comunicazione a terzi di quante medge in seduta. L'ordine del giorno reca a questo punto l'audizione di Maria Rosa Lombardo e di Fabio Lombardo. Ricordo che ai sensi dell'articolo 12,5 del regolamento interno gli auditi hanno sempre comunque la possibilità di richiedere la secretazione dell'intera seduta oppure di parte della stessa qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che a loro avviso non debbano e possano essere oggetto di divulgazione. Lo ribadisco, lo dico prima, poi magari ve lo solleciterò nel dunque perché in passata e in più occasioni è stato necessario rammentarlo. Al termine degli interventi degli auditi, scusate, senatori e deputati potranno prendere la parola in ordine di prenotazione per porre quesiti in tempi comunque celeri. Do pertanto la parola ai figli del maresciallo Antonio Lombardo ringraziandoli per la loro presenza e se non ci sono problemi da parte del signor Fabio credo che non sia una questione di sessismo. Io darei la parola alla sorella del signor Fabio. Prego, signor Fabio. Precisando che come è ovvio, lo dico in premessa, potrei essere costretto a sospendere temporaneamente l'audizione causa appunto lavori che implicano il voto di fiducia alla Camera dei Deputati. Ah, pare che non sia un voto di fiducia, un voto normale, ma comunque bisogna consentire ai deputati di potervi partecipare. Prego, signor Fabio Lombardo. Allora, intanto buonasera a tutti e grazie per aver accolto la mia richiesta di audizione. Io mi trovo qui mi trovo qui perché dopo 26 anni mi trovo ancora a cercare la verità e a scoprire sempre cose nuove che riguardano la morte di mio padre. La prima cosa, la mia priorità è quella di togliere la parola suicidio dalla morte di mio padre. Perché dico questo? Perché sin da subito si parlò del suicidio del maresciallo Lombardo. Ora io dico, noi possiamo parlare di suicidio solo in due casi. O che lo vedi mentre che si spara? Oppure che vengono fatti gli accertamenti scientifici correttamente? Ma a quanto pare non è accaduto né uno né l'altro. Non c'è stato nessuno che ha visto il maresciallo Lombardo spararsi alla Tempia. E ancora di più, ancora più grave, non è stato fatto nessun esame autottico sul cadavere. Che sia stata una scelta del magistrato di turno, che sia stata una scelta anche dei carabinieri, questo non lo so. Non l'ho mai saputo e mi piacerebbe saperlo. Oltre a questo, diciamo che gli esami che sono stati fatti sia sul corpo, sul cadavere e sull'autovettura portano a pensare a tutt'altro che al suicidio. A rafforzare l'ipotesi del non suicidio è anche la perizia calligrafica effettuata dalla dottoressa Valentina Perro circa un mese fa, in cui si evince che la scrittura non appartiene al maresciallo Lombardo. Nel 1997, nel 1997, viene archiviata, viene chiesta l'archiviazione dalla procura di Palermo per istigazione al suicidio. Nella richiesta di archiviazione i magistrati scrivono che hanno la certezza del suicidio, hanno avuto la certezza dalle testimonianze delle persone presenti quella sera in caserma. Io ho letto le testimonianze delle persone, dei carabinieri presenti quella sera e c'è un piccolo particolare. Nessuno parla di un colpo d'arma da fuoco. Qui abbiamo soltanto un corpo, un cadavere con una pistola in mano e una lettera scritta accanto al sedile anteriore destro. Da questo si evince, secondo loro, che si tratta sicuro di suicidio. Questa sembra più una tesi un po' affrettata. Però è una tesi che va ancora avanti oggi, perché ancora oggi, quando si parla del maresciallo Lombardo, si dice sempre maresciallo Lombardo, virgola, suicida. E per quale motivo? Per quale motivo? Ma non si ricorda mai del maresciallo Lombardo per quello che ha fatto in carriera, ma si ricorda solo per l'atto delittuoso che è avvenuto il 4 marzo. E questa è la cosa sbagliata. Perché per quanto riguarda la parte professionale di riconoscimento il maresciallo Lombardo ne dovrebbe avere tanti. Soprattutto quello di aver liberato l'Italia dal più grande e sanguinario boss che la storia e la mafia abbia mai conosciuto, Totorrina. Perché c'è chi lo vuole accettare e c'è chi non lo vuole accettare. La cattura di Totorrina avviene grazie al maresciallo Lombardo. Come è stato provato da me durante la trasmissione di Giletti a Battiamoli, io ho presentato un documento dove mio padre, dieci giorni dopo la morte di Paolo Borsellino, quindi parliamo del 29 luglio 1992, sapeva già dove andare a catturare Totorrina. Totorrina viene catturato solo ed esclusivamente il 15 gennaio 1993. E viene data l'importanza sia a chi l'ha preso materialmente, sia a chi lo ha riconosciuto soltanto nel video, e quindi Balduccio di Maggio. neanche l'arma ha riconosciuto, ha dato il giusto riconoscimento al maresciallo Lombardo, perché gli consegnò un semplice encomio, un semplice encomio, che mio padre magari si vergognava pure a mostrare alla gente. Lo teneva in un cassetto ed era estremamente deluso. Prima di morire si stava occupando di un altro caso delicatissimo, che era l'omicidio Pecorelli e l'arrivo in Italia del boss Tanno Badalamenti. In questi anni io ho sentito pure persone che hanno cercato di sminuire la figura del boss Tanno Badalamenti. Ma penso anche di non sbagliarmi che l'arrivo di Tanno Badalamenti in Italia avrebbe creato qualche problema anche a livello istituzionale. Ed era per questo che era arrivato l'ordine di fermare il viaggio americano, ma ancora di più, di fermare il maresciallo Lombardo. Uno dei modi, uno dei metodi utilizzati è stato quello della calunnia durante una trasmissione di Santoro, tempo reale, in cui mio padre venne attaccato pesantemente dai due sindaci, il sindaco Leoluco Orlando e il sindaco di allora di Terrasini, Maglio Mele. Diciamo che l'unica persona che provò a difendere mio padre fu l'allora comandante dei carabinieri, il generale Federici. Ma Santoro non riteneva opportuno un intervento appunto del comandante per difendere il proprio carabiniere, ma con un gesto, con la mano, disse che non c'era bisogno dell'intervento di Federici dicendo che stava terminando la trasmissione. Dopo sappiamo benissimo che quello che successe, la trasferta in America saltò, Badalamenti decise di non venire più in Italia e il 4 marzo arrivò la morte del maresciallo Lombardo. Un piccolo particolare che mi confermò anche la signora Agnese Borsellino e lo voglio ricordare fu che un paio di giorni prima del 4 marzo mio padre chiamò direttamente la vedova Borsellino e gli disse a breve le porterò su un vasso di argento la verità sulla morte di suo marito. Questo fatto me lo raccontò la signora Agnese nel novembre 2006 quando io la chiamai per invitarla alla presentazione del libro di Daniela Pellicanò sulla morte di mio padre e lei mi disse, dice tuo padre in quel momento mi ha fatto veramente felice, mi ha reso felice, dice perché tuo zio Carmelo era testimone quando venne il giorno dopo la strage di Via D'Amelio e mi promise l'arresto di Torrina e mantenne la promessa ed ero sicuro e sicura che avrebbe portato anche la verità sulla morte del magistrato. Non è stato possibile, non è stato possibile e ci troviamo oggi con depistaggio della strage di Via D'Amelio e con Borsellino Quater. Sta di fatto che il maresciallo di paese come lo chiamava il dottor Ingroia era arrivato anche a questa verità. Di verità scomode ne aveva scoperto abbastanza, tra cui anche quella della morte di Mino Pecorelli che ovunque porta, da qualsiasi altra parte, ma non alla banda della Magliana, come sempre è stato raccontato in tutti questi anni. Andando al 4 marzo, perché ci tengo, soprattutto a parlare del 4 marzo, perché io penso che al momento la priorità sia sapere dove, come e quando è morto il maresciallo Lombardo. Ora, il 4 marzo 1995, mio padre arriva la mattina da Verona, era stato a Milano ad accompagnare il pentito Salvatore Gangemi per un processo di mafia, che adesso non mi ricordo che processo era, ed è tornato verso mezzogiorno da Verona. Da lì andò direttamente al comando Rossi di Monreale, dove ebbe l'incontro con i suoi superiori, e parlarono logicamente di servizio. Tornò a casa all'ora di pranzo e verso le 3 e 3 e mezzo partì per Palermo, dove aveva un incontro con il capitano Baudo. Appuntamento che finì intorno alle 17.30. Ora abbiamo notato che mio padre, in un tratto che si può fare tranquillamente in 15 minuti, soprattutto con la macchina di servizio, quindi parliamo dalle 17.30, ad arrivare da Via Belgio, dove era mio padre con Baudo, fino al comando regione a Palermo, c'è stato all'incirca e un'ora e mezza. Mi sembra un po' strano che ci sia così tanto tempo per una distanza che non è così tanta. Ma abbiamo anche delle discordanze sull'orario d'arrivo, perché il generale Gagnazzo dice che mio padre si è presentato nel suo ufficio intorno alle 19, mentre secondo il piantone, il brigadier Moscia, mio padre arriva intorno alle 20.00. Un'ora di differenza è un po' troppa. Oltre all'orario d'arrivo, il brigadier Moscia ci tiene a sottolineare che mio padre indossava un montone di color marrone. Non riesco a capire perché tiene proprio a precisare questa cosa. Sta di fatto che io il montone marrone l'ho ricevuto dai carabinieri direttamente nella sede del Ross di Monreale circa un mese dopo la morte di mio padre. Non era in macchina con mio padre. Quindi non so cosa abbia visto il brigadier Moscia. Eppure quella sera c'era molto freddo. Mio padre esce a un colloquio con Cagnazzo e lui ci tiene a sottolineare che mio padre in quel momento era equilibrato come sempre. Quindi parliamo di un'ora e mezzo, due ore prima della morte. Mio padre era una persona equilibrata. Se nell'arco di due ore impazzisce e si spara un colpo in testa, allora la cosa è un po' preoccupante perché non lo conoscevo così squilibrato. Mio padre parla con i suoi superiori, il generale Cagnazzo e il colonnello Arena. Parla anche di sue delusioni per come è stato trattato dai due sindaci in tv della querela che doveva fare. Lui affermò quella volta che a costo di farsi dieci anni di galera non avrebbe mai fatto i nomi delle sue fonti. E di fonti ne aveva tante. All'incirca intorno alle 20 e 30 mio padre lascia l'ufficio del generale Cagnazzo dicendo che doveva andare a casa perché doveva uscire con la moglie. Era un sabato sera. E dopo 15 minuti lo stesso generale scende per una passeggiata in cortile e la macchina di mio padre non era più presente. Nel frattempo dove era parcheggiata l'auto di servizio di mio padre era parcheggiata l'auto del tenente colonnello Minnella. Persona che sicuramente avrà visto mio padre andarsene ma che dalla procura di Palermo non è mai stato sentito. intorno alle 10 e 30 intorno alle 10 e 30 il capitano ultimo è un altro personaggio si può secretare questo? Grazie. 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 Grazie a tutti. Se io mi sparo con la mano destra da questo lato il proiettile dovrebbe essere dritto, da quel lato lì stranamente il proiettile viene trovato viene trovato l'ogiva viene trovata in questo punto e a questo punto si è dietro la macchina non accanto alla macchina ed è come avevo anticipato purtroppo dobbiamo sospendere perché la Camera deve votare quindi va garantito ai deputati l'esercizio del diritto di voto quindi ci scusiamo per il momento sospensione di un minuto per appurare se in via regolamentare si possa soprassedere è mia intenzione procedere però è altrettanto mia intenzione rispettare le regole questa è no no devo far sapere suo papà quando io quando abbiamo conosciuto Paolo Borsino nella caserma di suo papà allora per il momento si può riprendere allora le chiedo scusa signor Fabio lei prima accennava a dove si possa ritrovare l'ogiva nel caso si spari con intento suicidario con la mano destra perfetto allora scusate se forse può riprendere può riprendere quel passaggio si no 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 infatti voglio riprendere appunto il passaggio del ritrovamento dell'ogiva allora questa qua è la foto che riprende mio padre all'interno della macchina quindi come vedete in questa fotografia il proiettile dovrebbe l'ogiva dovrebbe trovarsi in questa posizione giusto? il proiettile viene trovato dietro la macchina come fa questa traiettoria almeno io da ignorante non la capisco ma viene trovato l'ogiva l'ogiva viene trovata ma viene trovata questa ogiva loro dicono loro dicono questa per chi è magari più esperto di me potrà capire che è un'ogiva che non è entrata né uscita dalla tempia di mio padre mi sono informato anche col mio perito balistico e se fosse stata l'ogiva che ha ucciso mio padre sarebbe stata molto distrutta sarebbe stata distrutta affungata deformata non so come come si possa dire in gergo tecnico ma è un'ogiva nuova va bene accettiamo il fatto che questa è l'ogiva no? io ho chiesto tante volte di avere sia l'ogiva che la pistola anche l'ultima volta quando sono stato sentito nel 2015 dai magistrati di Matteo Teresi del Bene e Tartaglia io ho chiesto perché gli stessi discorsi che sto facendo qua li ho fatti a loro io ho chiesto l'ogiva e la pistola appunto per farli analizzare dal mio perito a quanto pare questa pistola e questa ogiva non è né a Messina a RIS né in procura ancora oggi non riesco a capire dove sia stranamente stranamente il 10 o l'11 marzo quindi parliamo di 6 giorni dopo la morte di mio padre si svolge nella in procura a Palermo una conferenza stampa in cui presenziano il procuratore Caselli qualche altro magistrato e gli ufficiali dei carabinieri e il giornalista Attilio Bolzoni fa una domanda un po' strana perché dice lui chiede ma come mai quella sera non si trovava l'ogiva quindi l'ogiva già non si trovava la sera del 4 marzo io allora mi sono chiesto scusate se l'ogiva il 4 marzo non si trovava questa che ogiva è da quale pistola è uscita questa ogiva una un'immagine che mi ha colpito sia dal punto di vista affettivo perché è mio padre ma ripeto non mi fa impressione perché il suo sangue è il mio sangue però sapete io da povero ignorante più guardo questa foto più guardo questa foto e più mi chiedo se può essere un suicidio e vi spiego subito il perché perché qua parliamo di uno che si spara un colpo alla tempia si spara un colpo alla tempia e ha pure il tempo il tempo di posizionare la mano sul grembo e guardate com'è la mano la mano il dito ce l'ha ancora nel grilletto ma scusate un attimo ma stiamo parlando di una pistola a giocattolo o stiamo parlando di una parabellum io penso che se il corpo il colpo scusate parte proprio a una distanza ravvicinata dalla testa o il braccio va verso destra o in automatico cadrebbe perpendicolarmente al corpo ma non penso che mio padre possa aver avuto il tempo di posizionarsi in questo modo io ci tengo a mostrarvi queste foto perché noi siamo venuti a conoscenza di queste foto non subito ma dopo tanti anni dopo tanti anni è anche un bel po' di insistenza di insistenza perché ripeto sin da subito abbiamo visto che c'era qualcosa di strano ma non così strano non immaginavo così strano qua parliamo di fantasia hollywoodiana qua parliamo di un di un delitto perfetto qua parliamo di un suicidio tra virgolette suicidio magari troppo perfetto troppo perfetto poi se noi vogliamo dire che c'è anche la lettera e che lui ha scritto la lettera perfetto la procura faccia il suo lavoro e faccia fare la perizia calligrafica la perizia calligrafica non viene mai fatta non solo siccome vi ho dimostrato siccome vi ho dimostrato che la lettera è stata sicuramente toccata da qualcuno non sono state prese neanche le impronte digitali e la lettera e mi viene consegnata se non mi sbaglio nel 2012 con la dicitura non più utile alle indagini non più utile alle indagini vuol dire che prima del 2012 sono state fatte le indagini sono state fatte indagini su questa lettera se qualcuno mi mostra le indagini le analisi che sono fatte le perizie tutto quello che è stato fatto sulla lettera io sarei veramente grato ma nessuno mai mi ha mostrato questi esami nessuno e allora abbiamo fatto fare noi la perizia calligrafica abbiamo fatto fare noi la perizia calligrafica e ripeto come ho detto poco fa la dottoressa Pierro ha scritto nero su bianco che la comparandola anche con qualche altra scrittura di mio padre in altre agende in altri documenti che la scrittura della lettera non corrisponde a quella del maresciallo Antonino Lombardo ora ripeto quell'ennesima volta sarò ripetitivo ma io vorrei capire veramente perché non è stata fatta l'autopsia perché l'autopsia come scusa tu mi fai l'autopsia così io posso capire dove come e quando è morto il maresciallo Lombardo no voi non fate l'autopsia voi decidete di non fare l'autopsia noi qualche giorno dopo noi familiari chiediamo ai magistrati che vengono a interrogarci a casa perché non è stata fatta l'autopsia e la risposta è letteralmente agghiacciante perché il magistrato la dottoressa in Bergamo ci risponde che non è stata fatta l'autopsia per un gesto di umanità gesto di umanità tu devi fare il magistrato il gesto umanità poi te lo te lo conservi fuori dal lavoro ma in quel momento tu sei magistrato e tu devi fare il tuo lavoro e in quel caso tu stai lavorando su un caso che mi riguarda personalmente e tu devi fare l'autopsia mi fa male mi fa bene non mi interessa ma io voglio la verità e quindi l'autopsia è talmente importante che per arrivare a capire almeno quello che è successo per avere almeno la certezza di quello che è successo e loro mi hanno negato questa possibilità ripeto non è un rimprovero solo ed esclusivamente verso il magistrato che non l'ha voluta fare ma anche verso i carabinieri che non si sono opposti nessuno anzi si sono hanno fatto la corsa a scrivere a scrivere allora c'era del televideo immediatamente il suicidio un maresciallo il maresciallo dei carabinieri Antonio Lombardo si suicida all'interno della macchina all'interno della caserma Bonsignore subito subito si parla di suicidio suicidio quando tu senti parlare del maresciallo Lombardo leggi maresciallo Lombardo virgola suicida morto suicida quando leggo poi la presentazione di altri personaggi come il capitano ultimo capitano ultimo virgola l'uomo che catturò Rina e senza il maresciallo Lombardo come l'avrebbe catturato non penso che ci sarebbe arrivato anzi ne sono più che sicuro ma non è questo non si vive solo di riconoscimenti alla fine solo che un gesto nobile l'ha compiuto mentre tutti coloro che in questi anni si sono presentati alla famiglia Borsellino come amici fraterni del giudice l'unico che l'ha vendicato è stato il maresciallo Lombardo e questo è un dato di fatto questo almeno non si può cambiare ora io mi chiedo io mi trovo qui ripeto dopo 26 anni solo esclusivamente dopo aver girato l'Italia l'Italia le procure di Roma di Caltanissetta di Palermo e aver visto solo esclusivamente archiviazione ingiustificata archiviazione senza senso archiviazioni e archiviazioni infatti quando io sento parlare di riapertura del caso Lombardo dico ma quale riapertura qua si parla di apertura e un'apertura dopo 26 anni è solo vergognosa 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 perché il lavoro che è stato fatto soprattutto all'inizio è letteralmente vergognoso perché la procura di Palermo scrive nella richiesta per l'archiviazione e ci tengo a sottolineare che qua c'è forse un caso senza precedenti perché una richiesta di archiviazione in questo caso ha sette firme di magistrati sette sette magistrati firmano una richiesta di archiviazione mai vista sfido chiunque di voi a trovare un caso del genere comunque i magistrati scrivono perché loro si sostituiscono anche a psicologi e psichiatri perché loro indicano pure il motivo per cui il marescial Lombardo si sia suicidato loro scrivono che mio padre arriva al suicidio per vergogna non riesca a capire di che cosa si dovrebbe vergognare uno che ha dato veramente l'anima uno che è stato servitore dello Stato in maniera eccellente un servitore dello Stato con la S maiuscola trattato come un cane forse Giovanni Brusca no anzi forse Giovanni Brusca è stato trattato meglio dallo Stato italiano io in questi anni ho passato il tempo a togliere il fango dall'immagine di mio padre quel fango che è stato gettato da gente da gente che non ha niente a che fare veramente con la lotta alla mafia come i due sindaci che hanno attaccato mio padre questa che per me risulta una calunnia per i magistrati di Palermo e per la procura di Roma perché se ne occupò anche la procura di Roma non è calunnia non è calunnia perché secondo loro i magistrati parlarono in tv i sindaci e scusate soprattutto non so chi di voi si ricorda la trasmissione il sindaco Orlando aveva gli occhi infuocati quella sera proprio quando attaccò allo stesso modo come quando attaccò Falcone se vi ricordate benissimo perfettamente uguale la stessa scena e venne appoggiato anche dal presentatore Santoro e nella trasmissione mio padre venne accusato di essere colluso con la mafia venne accusato di essere colluso con la mafia ma secondo i magistrati non era calunnia perché le dichiarazioni del pentito Salvatore Palazzolo erano già di domino pubblico ma né il sindaco Orlando né il sindaco Mele ha saputo spiegare da chi hanno avuto la notizia mio padre prima di morire nel periodo tra la trasmissione quindi parliamo del 24 febbraio al 4 marzo un giorno in cucina mia madre disse fece i nomi di due magistrati che io non avevo mai sentito lui disse che ripeto la mia non è un'accusa lo voglio sottolineare però questi sono i nomi che io ho sentito uscire dalla bocca di mio padre ed erano la dottoressa in Bergamo e il dottor De Luca mio padre sosteneva che a dare la notizia delle dichiarazioni di Salvatore Palazzolo fossero stati i due magistrati ripeto la mia non è un'accusa io riporto solo esclusivamente le parole di mio padre comunque non ci fu calunnia non ci fu calunnia non ci fu istigazione sicilio non ci fu nulla ma ci fu un immaginario colpo d'arma da fuoco che segnò la fine di un grande uomo di un grande carabiniere e di un grande servito dello Stato e per me un grandissimo padre ora ripeto per l'ennesima volta io vi prego quando parliamo del marescio Lombardo di non usare più la parola suicidio fino a quando non c'è la certezza assoluta io vi prego di parlare del marescio Lombardo soprattutto per quello che fece durante la sua carriera perché può essere solo apprezzato un carabiniere di tale calibro e noi siciliani soprattutto sappiamo benissimo quanto valgono questi personaggi nella lotta nella vera non nella lotta nella vera lotta alla mafia perché la lotta alla mafia non si fa con le chiacchiere la lotta alla mafia si fa seriamente con i fatti e quando tu lotti la mafia sai benissimo che esci da casa tranquillo e non sai se torni a casa e la storia ce lo insegna io non nascondo che nel 93 maggio 93 mi trovavo a casa con mio padre e mia madre e mio zio quello che voi conoscete come il tenente canale e arriva ufficialmente la notizia dal carcere che Giovanni Brusca avrebbe dovuto uccidere mio padre per vendicare la cattura di Totorrina e allora siccome io frequentavo Terasini è un paese vicino San Giuseppe Iato vicino Partinico quindi è nel territorio dei Corleonesi mio padre sapeva che io frequentavo quei paesi quei paesi e mi diede mi fece scendere in caserma e mi diede la foto di Giovanni Brusca dicendo io sinceramente non conoscevo questo personaggio avevo 17 anni e gli disse papà ma chi è questo e lui mi rispose questo è l'uomo che vorrebbe uccidere tuo padre devo essere sincero a 17 anni quando mi sento dire queste cose un po' mi preoccupo mio padre mi ordinò anche di non parlarne neanche con mia sorella neanche con gli amici quindi io dovevo vivere dovevo vivere facendo finta di niente e nello stesso tempo con la paura di essere ucciso e ancora di più con la paura di non vedere più mio padre questa paura era molto frequente era molto frequente sia dalla prima guerra di mafia sin dalla prima guerra di mafia però devo essere sincero non immaginavo che questa fine avvenisse all'interno di una di una caserma dei carabinieri forse è il posto in cui lui si sentiva più protetto non sapeva che avrebbe ricevuto delle pugnalate anche all'interno della caserma e da coloro che portavano la divisa come lui un altro colloquio importante lo ebbi con mio padre il sabato dopo il sabato dopo la la trasmissione la famosa trasmissione in cui lui venne accusato lui non l'aveva mai fatto stranamente lui prese mi prese e mi disse guardandomi negli occhi mi disse l'importante è che noi rimaniamo una famiglia unita io ho detto papà noi siamo una famiglia unita noi siamo una famiglia unita resteremo uniti noi ho detto perché dice lui voleva voleva parlare e mi disse perché intanto vediamo se ci fanno partire dagli Stati Uniti vediamo se non ci fanno saltare in aria arrivate in Italia andremo in giro penso più che blindati perché dagli ufficiali delle forze armate fino ad arrivare al presente della Repubblica ci sarà un inferno giudiziario quella sera decisi di non uscire più decisi di non uscire più perché la cosa diventava sempre più reale la paura di non vedere più mio padre diventava sempre più reale e l'atmosfera a casa mia era ormai troppo tesa la stessa sera la stessa notte viene ritrovato il cadavere del confidente di mio padre un certo Francesco Brugnano il cadavere viene trovato nel territorio di Terrasina all'interno di un bagagliaio incaprettato quindi capiamo da questo da questo ritrovamento che il Brugnano venne prima torturato per farlo parlare e poi ucciso e come premio portato nel luogo di Terrasini per dare il segnale al maresciallo Lombarda guarda caso quella sera mio padre si doveva incontrare con Brugnano per arrivare alla cattura di Giovanni Brusca cattura che come sappiamo benissimo avviene qualche anno dopo qualche anno dopo diciamo che il ritrovamento di Gianni Brugnano lo ha colpito di Francesco Brugnano lo ha colpito particolarmente perché ha sentito un vero segnale forte nei suoi confronti e penso che abbia capito era troppo esperto in materia e penso che abbia capito che a breve sarebbe successo qualcosa a lui ma sapete non era però così preoccupato da pensare al suicidio non lo dico perché sono un psicologo ma lo vedevo sempre mio padre lo guardavo anche quando lui è è partito perché lui venne sostituito per la trasferta negli Stati Uniti da un altro sotto ufficiale perché era troppo sovraesposto ma scusate uno che viene sovraesposto tu lo metti da parte tu lo metti sotto protezione giusto non lo fai andare a Milano con Toto Cangemi per un processo di mafia e allora a questo punto non lo stai mettendo da parte eppure lui ha capito la gravità della situazione la gravità della situazione e chiese ai suoi superiori di essere trasferito per gli ultimi cinque anni di carriera proprio per far calmare le acque e tornare poi in Sicilia in un'ambasciata all'estero dicendo che aveva tutti i requisiti per un trasferimento in un'ambasciata questa sua richiesta fu respinta dai suoi superiori uno dei quali gli disse il tenente di Erfone gli disse no Lombardo perché il Ross senza Lombardo non è più Ross qualche giorno dopo il Ross continua a essere Ross e Lombardo finì di vivere scusate il oltre a questi fatti vorrei ricordare vorrei ricordare dei piccoli particolari che riguardano anche dei colleghi di mio padre tra cui uno di questi è l'appuntato Giuseppe Como una persona un po' una figura un po' strana un po' strana guarda caso questo personaggio è presente in in diverse occasioni che fanno capire che l'arma cercava i documenti di mio padre un mese prima di morire mio padre noi ancora abitavamo sopra nell'alloggio sopra la caserma portò mia madre nell'archivio della stazione Terasini ed è assieme a loro due era presente anche appunto l'appuntato Giuseppe Como in quell'occasione mio padre disse a mia madre quando mi uccideranno non diceva più se mi dovessero uccidere quando mi uccideranno in quel faldone io lo indicò troverai la verità sulla mia morte quindi vi ricordo era presente mio padre mia madre e l'appuntato Giuseppe Como dopo la morte di mio padre io e mia madre assieme a un altro carabiniere l'appuntato Giacomo praticò ci rechiamo nello stesso archivio per vedere appunto il faldone per controllare il faldone il faldone non c'era più vado a leggere le carte gli atti vado a controllare gli atti e mi accorgo che l'appuntato Giuseppe Como si presentò in procura con dei documenti con dei documenti di mio padre dicendo che i familiari del marescio Lombardo glielo avevano consegnati presso la loro abitazione almeno io posso dire di non aver consegnato niente ho chiesto anche al resto della famiglia e nessuno nessuno ha consegnato documenti all'appuntato Como quindi vorrei chiedere a questa persona chi gli consegnò i documenti e chi gli diede il permesso l'autorizzazione di portarlo in procura la procura logicamente deve fare il suo lavoro ed è giusto ma nessuno di noi ha autorizzato l'appuntato Como a portare documenti perché io non so neanche che documenti ha portato in procura assolutamente si parla di 76 fogli più le agende e lo stesso Como una settimana dopo la morte torna di nuovo a casa chiedendo avete altri documenti altri come altri altri documenti ho detto io non ho nessun altro documento tempo passa ancora tempo e si presenta sempre a casa mia io era a scuola mia sorella era a scuola mio fratello era a scuola sotto ufficiale a Belletri e dice chiede a mia madre di andare a controllare il conto corrente in banca per vedere i movimenti i movimenti appunto che erano stati effettuati nel conto mia madre non ha niente non aveva nulla da nascondere e gli ha detto andiamo andiamo in banca sono andato in banca mia madre si è presentata davanti al direttore dicendo che l'appuntato Como avrebbe voluto controllare i movimenti del conto corrente il direttore inizialmente si oppose dicendo che ci voleva un mandato per questo controllo e mia madre ripeto non avendo nulla da nascondere gli diede l'autorizzazione e l'appuntato Como controllò i movimenti e da casa mia passò al comando del Rosso a Monreale a portare notizie ma non diceva mai chi lo mandava a casa mia io non ho mai saputo chi l'ha appuntato Como a casa mia se sono stati superiori io non l'ho mai saputo anche perché non me l'ha mai raccontato non me l'ha mai raccontato un personaggio abbastanza strano ripeto un collega di mio padre una persona che aveva parlato con noi ma mi sa tanto che ho visto bene che a vedere in lui un traditore un traditore perché non vieni a casa del tuo collega del tuo superiore per per controllare ciò che facciamo per controllare i documenti che abbiamo tu devi venire per sapere come sta la famiglia nessuno nessuno dell'arma si era preoccupato della famiglia del maresciallo Lombardo interessava solo scoprire i movimenti del maresciallo Lombardo mio padre qualsiasi movimento faceva lo faceva sapere ai propri superiori qualsiasi movimento ma in tutti questi anni i suoi superiori l'hanno sempre confermato che incontri con confidenti incontri con altre persone nell'ambito mafioso mio padre prima di questi incontri avvisava i suoi superiori e da questo mi auguro che quella linea sottile che di solito perché io dico sempre che per comprendere la storia del maresciallo Lombardo bisogna conoscere bene anche il fenomeno dei confidenti non dei pentiti bisogna fare una differenza il pentito molte volte neanche neanche ti guarda in faccia e dice la verità che interessa a lui il confidente invece no col confidente stringi tra virgolette un'amicizia ma un'amicizia che alla fine è più una fiducia perché sapete benissimo che se il resto della della famiglia mafiosa viene a sapere delle confidenze fatte appunto dall'esponente mafioso lui rischia la vita assieme a mio padre e nello stesso tempo mio padre agli occhi di tutti può sembrare un corrotto perché nessuno logicamente sapeva delle missioni di mio padre nessuno sapeva di ciò che faceva mio padre tutti in paese lo ammiravano sia per il personaggio sia per il suo carattere per il suo lavoro lui ha comandato la stazione Terasini per 14 anni però pur essendo un semplice maresciallo di paese lui non lo nascondeva perché a lui piaceva fare il maresciallo di paese era un eccellente investigatore guarda caso in caserma Terasini passavano tutti passavano agenti della DIA passavano quelli del ROS passavano quelli dei servizi segreti della polizia e anche magistrati uno dei quali era Paolo Borsellino e c'è in quest'aula c'è chi lo può confermare stranamente Borsellino per alcuni colloqui investigativi soprattutto con Rita Atria li faceva a Terasini non li faceva in procura del maresciallo Lombardo il giudice Paolo Borsellino non si fidava ciecamente ma oltre a fidarsi non era soltanto una 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 forma di rispetto di di fiducia ma Borsellino come disse proprio lui quando il maresciallo parla di mafia bisogna solo ascoltarlo in silenzio religioso ed è quasi impossibile contraddirlo lui si face tante di quelle discorsi con mio padre riguardo a certe indagini io non sto qua a dire quale indagini sono anche perché non le so ma di tempo assieme ne hanno passato diciamo che da quel paese da quel paese veramente sono passati tutti anche superiori generali che arrivavano direttamente al comando generale la prima tappa che facevano era il comando di stazione di terrasini e logicamente chiunque aveva dei pregiudizi diceva ma perché devo incontrare un semplice maresciallo di paese dopo l'incontro si accorgevano il perché dicevano gli raccomandavano questo incontro con il maresciallo Lombardo il maresciallo Lombardo è pure colui e ci tengo a precisarlo perché sono pure stanco di sentire di sentire menzogne perché la storia dell'arrivo del tritolo per il giudice Paolo Borsellino a Palermo la portò il maresciallo Lombardo non quando era a Ross ma quando era sempre al comando della stazione di terrasini come adesso sappiamo tutti la notizia uscì dal carcere di Fossombrone dove era detenuto uno dei uno della famiglia di terrasini in girola Modanna che aveva confidato a mio padre appunto l'arrivo del tritolo a Palermo per Paolo Borsellino questa notizia viene l'importanza di questa notizia viene data al Rosse di Subranni ma non è così non è così perché è mio padre che dà la notizia a Rossi di Subranni e Rossi di Subranni la favere al giudice a Palo Borsellino il perché ci tengo a sottolineare questa perché non riesco a capire il motivo per cui dopo il 4 marzo la figura del marescialo Lombardo sembra che ci sia un ordine che la figura del marescialo Lombardo debba essere eliminata eliminata da qualsiasi indagine perché dico questo mio padre è il protagonista dei viaggi americani presso il carcere di Fairton dove era detenuto il boss Tano Badalamenti dico era il protagonista perché è mio padre che chiede il consenso a Tano Badalamenti di parlare con il resto della squadra tra cui magistrati di Palermo e della procura di Perugia e anche altri un ufficiale dell'arma l'allora maggiore Obbino e altri esponenti della DIA e dell'FBI prima di avere l'incontro con questi personaggi mio padre rimane per circa mezz'ora o un'ora all'interno di una stanza con Tano Badalamenti e inizialmente lo stesso Badalamenti quando vede i magistrati di Palermo dice di avere il famoso mal di pancia però accetta l'incontro accetta l'incontro appunto perché c'è il maresciallo Lombardo avviene il colloquio investigativo per ben due volte il primo viaggio avviene a ottobre del 94 il secondo dicembre del 94 dello stesso anno a dicembre del 94 viene deciso Badalamenti decide di venire in Italia però ci tiene a sottolineare una cosa io vengo in Italia solo e ripeto solo se mi viene a prendere il maresciallo Lombardo solo quindi cosa vuol dire che se non c'è la presenza del maresciallo Lombardo Tano Badalamenti in Italia non viene guarda caso non verrà più decide di non venire più proprio dopo la trasmissione in cui viene attaccato mio padre perché arrivato a questo punto credo sempre meno alle coincidenze ma quella trasmissione fatta proprio qualche giorno prima della della partenza per gli Stati Uniti è piuttosto strana come ad esempio la morte di Brugnano avvenuta due giorni dopo la trasmissione e due giorni prima la partenza degli Stati Uniti il maggior obbino sentito dai magistrati di Palermo presenta dopo che noi familiari noi famiglia Lombardo presentiamo le relazioni le famose relazioni americane però noi presentiamo quelle originali che io personalmente trovo in un cassetto nella casa dei genitori paterni dei miei nonni paterni noi presentiamo il documento così come lo troviamo leggendolo venivano soltanto i brividi il maggior obbino presenta lo stesso documento con la mancanza di del frontespizio e quindi mancavano il bene bravo del comandante vicecomandante il generale merenda e il colonnello mori le firme del maresciallo Lombardo nelle copie presentate dal maggior obbino scompaiono scompaiono le firme del maresciallo Lombardo e mancano vengono a mancare anche le quattro audiocassette che lo stesso Bino dice che sono state distrutte perché si sentivano male però anche in questo caso come nella pistola come in tutti gli altri casi non esiste nessun verbale di distruzione c'è un piccolo particolare in questa nella storia delle relazioni manca nella nella relazione presentata dal maggior obbino manca una parte manca una parte in cui si evince che il dottor Natoli non non vuole che Badalamenti venga portato in Italia per delle preoccupazioni per dei processi attivi in quel periodo che sappiamo tutti qual'erano quello il processo ad Andreotti il processo impastato e il processo pecorelli io non riesco a capire il perché il maggior obbino va a tagliare proprio quella parte e non sarò neanche io a spiegarlo ma lui non l'ha mai neanche spiegato lui ha dato delle spiegazioni un po' troppo banali un po' estremamente banali dice pure che la parte la parte mancante è solo nella nella brutta della nella brutta della della relazione non non ci dovrebbero essere le firme sia di mio padre che del maggior obbino quindi ci sarà un motivo per cui loro due hanno scritto questa parte qui ripeto vorrei che che fosse proprio il maggior obbino a spiegare a dare questa spiegazione non io perché io non ero presente a me è sembrato strano il fatto che mancasse proprio questa parte la firma del maresciallo Lombardo che ripeto è stato il protagonista di quelle di quelle di quei viaggi americani e il bene bravo del comandante del vice comandante Rossi di queste relazioni di queste relazioni inizialmente si negava anche l'esistenza si negava anche l'esistenza lui il maggior obbino è sembrato magari sorpreso da queste da quando noi abbiamo presentato queste due relazioni perché ripeto ciò che era scritto in queste relazioni americane era veramente pesante era veramente pesante e utile alle indagini che stavano effettuando in quel momento ora in questi anni mi è stato chiesto ho capito ma il motivo della morte di tuo padre sono i viaggi americani io a questo punto direi direi che non solo sono stati i viaggi americani ma un insieme di cose che hanno portato alla morte all'eliminazione prima non fisica ma l'eliminazione morale perché io penso che colpire la dignità di un uomo per bene soprattutto davanti a milioni di telespettatori sia una vigliaccata incredibile una vigliaccata che non può essere mai mai perdonata diciamo che mio padre è rimasto abbastanza scosso da quell'attacco da quell'attacco e cosa volete che vi dica ha cercato pure di difendersi ma come me anche lui ha trovato il suo muro di gomma perché ripeto io il muro di gomma l'ho vissuto l'ho vissuto il dottor Giuseppe Saieva che era un magistrato della procura di Roma che si occupava della calunnia nella richiesta di archiviazione scrisse che nelle parole di Orlando non c'era reato quindi se tu scrivi che nelle parole di Orlando non c'è reato vuol dire che mio padre è un colluso con la mafia però stranamente due righe dopo scrive che Lombardo era un eccellente investigatore e allora quando io vado a leggere queste queste due queste due tesi del magistrato chiedo un incontro per domandare appunto mio padre è un colluso come diceva Orlando o è un eccellente investigatore perché dobbiamo decidere se è colluso è colluso perfetto stop me ne farò una ragione non è un problema anche se io non ci credo ma sei un eccellente investigatore e allora lo dobbiamo riconoscere per ciò che ha fatto il dottor Saieva in modo molto esplicito mi disse che secondo lui vi era la calunnia nelle affermazioni di Orlando e Mele ma in quel momento aveva delle pressioni da parte dell'allora procuratore di Roma non so non mi ricordo il nome di questo magistrato che voleva l'archiviazione del caso io non nascondo che sono uscito sono uscito da quell'ufficio veramente demoralizzato forse è stata l'unica parte nei 26 anni in cui ho detto mollo tutto perché arrivo da questo punto veramente non so più cosa fare perché presento istanze presento denunce e mi vengono solo archiviati ormai io mi passo il tempo ad essere ascoltato dai magistrati ma inutilmente 3-4 ore per poi vedere solo esclusivamente solo esclusivamente archiviazioni anzi alcune volte prima di avere la notifica dell'archiviazione io leggevo la notizia dell'archiviazione appunto nei vari quotidiani i giornali Sicilia o la Repubblica soprattutto i giornali Sicilia e ripeto lo sapevo dai giornali dell'archiviazione non dalla notifica mandata dalla procura questo può anche accadere in Sicilia accade spesso io ripeto per come ho iniziato io vi ringrazio per questa audizione spero di essere stato chiaro e di avere almeno l'opportunità di di vedere qualche spiraio appunto per vedere la per trovare la verità per trovare la verità ormai ormai tutto è coperto dalla prescrizione ma almeno una verità storica raccontiamo veramente io almeno personalmente posso raccontare ai miei figli chi era suo nonno perché ancora oggi devo essere sincero non gli racconto che il nonno si è suicidato non gli racconto che il nonno si è suicidato perché non ci sono prove non è vero non so cosa dire che gli devo dire gli posso dire soltanto che ha lavorato benissimo ha lavorato benissimo a differenza di tanti altri che ha dimostrato il suo valore con i fatti e non con le chiacchiere e ha perso la vita appunto per il lavoro svolto in modo esemplare in un modo eccezionale se se noi dobbiamo noi siciliani che viviamo sempre che viviamo sempre con sentire notizie nel vivere giornalmente la mafia perché noi la viviamo giornalmente la mafia e diciamo e speriamo sempre di vivere in una terra libera dalla mafia libera dalla mafia ma se questi personaggi vengono vengono ostacolati vengono uccisi e allora noi la speranza la seppelliamo assieme ai nostri eroi eroi perché coloro che noi oggi chiamiamo eroi vorrebbero essere vivi belli tranquilli e non eroi perché noi parliamo di eroi solo esclusivamente solo esclusivamente quando sono morti molto spesso anche voi venite accusati di fare le passerelle durante le commemorazioni e voglio ricordare che come mio padre anche Falcone Borsellino prima di morire erano stati trattati male erano stati isolati fare finta è inutile è inutile fare finta dopo sono diventati tutti amici chi era amico prima lo è stato dopo ma molti amici spuntati dopo la morte non sanno neanche cosa vuol dire amicizia perché ripeto i due magistrati che noi oggi portiamo portiamo nel mondo come i simboli della legalità in Sicilia prima di essere uccisi erano stati abbandonati ed erano stati abbandonati anche dallo Stato lo Stato per cui hanno sempre lavorato è lo Stato per cui hanno dato la vita soltanto questo come loro come loro io vorrei che anche mio padre venisse ricordato per quello che ha fatto andatevi a informare con i suoi colleghi che lavoro ha fatto le indagini che faceva mio padre e vi accorgerete di chi sto parlando ma prima di prima di di fare ciò io mi auguro e ripeto per l'ennesima volta che venga tolta la parola suicidio da questa storia o si fa o si fa un giusto lavoro un lavoro perfetto che porta alla verità o non dobbiamo parlare parliamo di morte parliamo di morte del marescello Lombardo ma non parliamo di suicidio assolutamente non lo accetto non lo accetto e ripeto se tu magistrato apri un'inchiesta per istigazione a suicidio sai benissimo prima di iniziare a lavorare che questo fascicolo sarà archiviato perché istigazione a suicidio a chi? a chi? chi ha istigato mio padre? al suicidio? e quale suicidio? chi ha la certezza? qua mi sembra tutto tranne che è un suicidio io mi auguro di dimostrarvi di dimostrarvi che gli inquirenti si sono sbagliati noi stiamo facendo del nostro meglio vedremo i lavori che faranno i nostri periti e li porteremo sempre davanti ai magistrati perché noi abbiamo sempre sempre chiesto la verità facendo tutto regolarmente e mi auguro di dare giustizia e il giusto riconoscimento al marescello Lombardo per me io ripeto io sono il figlio e quindi sono sono di parte ma un grande uomo deve avere un grande riconoscimento non il fango che ha ricevuto in tutti questi anni io vi ringrazio vi ringrazio e finisco l'avvocato del Dio che è l'avvocato del Lombardo vorrebbe solo una sua precisazione di Fabio allora scusatemi se non ci sono se non ci sono problemi io proporrei di sentire se la signora Rossella Lombardo voglia aggiungere qualcosa se l'avvocato dei fratelli Lombardo voglia aggiungere qualcosa per poi avviare la fase di prassi di sottoposizione di quesiti appunto ai soggetti auditi quindi l'avvocato del Rio come diceva il difensore di Fabio e Rossella Lombardo vorrebbe solo che Fabio precisasse un secondo qual è stato l'esito dell'ultimo accesso agli atti dell'ultima istanza di accesso agli atti presentata in procura e allora ripeto nel 2015 ho presentato un'istanza dove chiedevo l'apertura del del caso e mostrando ciò che ho mostrato a voi le foto che ho mostrato a voi e dimostrando ai magistrati che avevo di fronte che qualcuno quella sera ha mentito ma ha mentito spudoratamente dopo tre anni questa questa inchiesta è stata è stata archiviata è stata archiviata col modello 45 modello 45 e qualche mese fa visto che c'è stato anche il periodo del covid e quindi ero impossibilitato a muovermi mi sono regato in procura e ho chiesto ho chiesto la visione degli atti la visione degli atti dopo qualche giorno mi arriva la risposta l'esito dicendo che potevo regarmi in procura per la visione degli atti arrivo e l'addetto all'archivio mi mostra un semplicissimo foglio che adesso qui scusate ma non ho un semplice foglio e nient'altro un foglio dove si spiegava appunto l'archiviazione non la motivazione ma che era stato solo archiviato e io sinceramente ho chiesto ma dove sono dov'è il fascicolo dove sono gli atti io non so chi è stato sentito io vengo qua per vedere chi è stato sentito cosa hanno detto e mi trovo solo questo foglio la risposta è stata che il PM si è tenuto il fascicolo scusate io non riesco a capire questo perché perché non mi permettono di dire allora scusate un secondo cosa devo fare io cosa devo fare io quel giorno sono salito su a vedere se poteva avere un incontro con il procuratore lo vuoi ma era era assente ma io volevo chiedere appunto un incontro con il procuratore per sapere per sapere il motivo per il quale ogni volta la procura si mette di traverso perché non mi permette perché non mi permette di controllare il loro lavoro io penso che sia un mio diritto ma questo mio diritto penso che venga disintegrato non ho nessun diritto a controllare a visionare gli atti questo è quello che chiedo tornerò di nuovo a chiedere la visione degli atti adesso abbiamo presentato una nuova istanza vediamo con la perizia calligrafica vista che l'abbiamo fatta noi e non l'ha fatta nessun altro in 26 anni e non aspettava a me fare la perizia calligrafica o almeno prima di me aspettava a qualcun altro fare la perizia ma qua di perizie non sono state fatte questo è quello quanto questo è quanto doveva aggiungere riguardo appunto all'ultima all'ultima inchiesta archiviata adesso aspettiamo l'esito dell'ultima istanza presentata dal mio avvocato grazie di nuovo grazie non so se voglio aggiungere qualcosa prego signora Rossella Lombardo allora io volevo sottolineare due fatti alquanto diciamo strani che sono accaduti a poche ore di distanza dalla morte di mio padre intorno alla mezzanotte ci comunicano della tragedia io ero a casa con mia madre subito dopo credo circa un tre quarti d'ora dopo arriva un medico militare che si presenta nella mia stanza dove io mi ero andata a chiudere vi lascio immaginare in che condizioni facendomi una puntura senza chiedermi il permesso senza darmi nessuna spiegazione l'unica cosa che sono arrivata a dire ma cosa sta facendo perché quest'uomo si è permesso di prendermi il braccio e fare questa puntura la risposta che ho ricevuto è stata è la prassi io ancora oggi a distanza di 26 anni vorrei sapere se davvero questa è la prassi perché poi confrontandomi con mia madre vengo a sapere che a lei è stata fatta la stessa cosa dopo quella puntura io non avevo più le forze di alzarmi dal letto mi sono sentita completamente annullata ma lucida e un'altra cosa stranissima accaduta subito dopo è l'arrivo del capitano Mungivera capitano l'allora capitano della compagnia di Carini che arriva dentro la mia stanza urlandomi vami a prendere i documenti di tuo padre beh vi lascio immaginare io che ancora dovevo realizzare della tragedia che stavo vivendo quest'uomo mi viene incontro urlandomi di cercare questi documenti non capivo tra l'altro mi avevano appena fatto quella puntura che mi aveva completamente annullata ripeto fisicamente non riuscivo neanche a muovermi lui vedendomi immobile sul letto mi prende con forza mi strattona e continua ad urlarmi vami a prendere i documenti di tuo padre beh io lì mi sono sentita quasi presa in giro io tra l'altro avevo 16 anni sì beh ma a parte i miei 16 anni ripeto vi lascio immaginare una figlia che viene a sapere di una tragedia simile in che stato si possa trovare quindi diciamo ricevere questo atteggiamento da parte tra l'altro di un esponente dell'arma dei carabinieri quindi non da un delinquente o da chissà chi bene questo uomo ripeto continua a strattonarmi vedendomi scioccata mi prende per il braccio stringendomi forte e io a quel punto gli dico guardi se ci sono documenti di papà possiamo andare a vedere nel salotto e allora ci dirigiamo verso il corridoio e possiamo segretare questa parte presidente gentilmente grazie 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 la sparizione del cane avviene appunto il 3 marzo la notte del 3 marzo quindi il giorno prima che papà tornasse dal viaggio da Milano dove aveva scortato il pentito Salvatore Cangemi Io credo che, penso che anche questo sia stato un avvertimento nei nostri confronti, come è stato quello dell'omicidio di Francesco Brugnano avvenuto una settimana prima. Ora, come diceva mio fratello Fabio, continuiamo a parlare di suicidio. Bene, signori, io a questo punto vorrei sapere dov'è la certezza che quest'uomo sia morto dentro quella caserma, dentro quell'auto. Perché è plausibile che mi venga il dubbio che quest'uomo è morto da un'altra parte e venga portato là dentro con quella famosa ambulanza di cui si parlava prima Fabio. Beh, visto che in auto non vengono rinvenute tracce di polvere da sparo, cosa alquanto impossibile, alquanto impossibile, improbabile. Io mi auguro di avere almeno una parte di verità, almeno di sapere come muore quest'uomo. Io chiedo di sapere come muore mio padre, perché io ancora oggi a distanza di 26 anni non so come muore mio padre, perché muore mio padre e credo che sia un mio diritto avere delle risposte. Vi ringrazio. Non ho nulla da aggiungere. Grazie signora Lombardo. Io adesso avvio il giro di quesiti. Si sono prenotati per il momento il senatore Grasso, poi la deputata Piera Aiello e poi ancora il senatore Endrizzi. Quindi prego gli stessi di parlare in quest'uomo. Prego, senatore Grasso. Salve. Io intanto volevo esprimere tutta la mia commozione nel sentire la mia solidarietà ai familiari, proprio perché ho conosciuto, quando ero giovane sostituto, prima di andare via da Palermo, il padre del maresciallo Antonino Lombardo. Quindi per me questo incontro è qualcosa di veramente particolare. Quindi detto questo, vorrei capire un attimo, come ha detto, che dieci giorni dopo la strage di Via D'Amelio, suo padre sapeva dove si trovava Riina. Dalle informazioni che sono trappelate dopo, almeno per quanto mi risulta, aveva indicato genericamente la famiglia Ganci, la Noce e dove effettivamente poi venne trovato. E' questa o ci sono altre indicazioni o altri elementi, oltre questo che è a mia conoscenza. Le faccio un po' di domanda se lei vuole prendere, non so. Quindi questo. Poi suo padre a lei o a persone vicine raccontò qualcosa dopo che... lei aveva già una certa età, quindi quando tornava dai suoi viaggi negli USA, visto che aveva avuto un rapporto privilegiato, tanto da stare addirittura un'ora, un'ora e mezza, così come ha detto lei e come risulta in effetti, a colloquio da solo con suo padre Badalamenti, se aveva detto qualcosa, oppure non direttamente a voi, ma avete saputo che ha raccontato a qualcuno il contenuto che certamente era riservato e che forse aveva trasferito in qualche appunto personale che non è stato evidentemente trovato o è stato sottratto, proprio perché questa poteva essere un'indicazione particolare di quello che era stato il rapporto. Poi se l'ipotesi dell'omicidio è collegabile con un movente da parte vostra, se riuscite a dare una spiegazione del movente e se corrisponde o no a quello che c'è scritto nella lettera, cioè che la chiave è nei viaggi americani. Mi ricordo l'ultima frase, credo che sia questa, se non ricordo male. La chiave della mia delegittimazione è nei viaggi americani. Quindi ricordo almeno, come vedete, le cose le ho vissute. E quindi se c'è una corrispondenza tra quello che voi considerate il movente, diciamo perché l'omicidio ci dovrebbe essere un movente, e questa collocazione di tutto il problema nella venuta in Italia di badalamenti, che non era gradita perché avrebbe potuto sconvolgere quella che era la costruzione accusatoria di un processo come quello Pecorelli, in cui era imputato il senatore Andreotti, oppure ci sono altre eventuali considerazioni che si possono fare. Infine, quella lettera anonima del marzo 2015, che ha dato luogo poi a quelle indagini, con un appunto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Legasi Servizi, ecco, se ci può dire sinteticamente qual era il contenuto e su cosa aveva tirato fuori al punto da riaprire le indagini, quel documento, quella lettera anonima, con l'appunto dei servizi. E infine, se è venuto fuori, o perché l'ha saputo direttamente o per intercorsa persona, che si è ipotizzato un coinvolgimento di servizi stranieri nell'avvento dei Corleonesi, di, appunto, e quindi di Rina, e il suo padre si era fatto portatore di questa notizia. Ho finito. Grazie, senatore Grasso. Do la parola a questo punto alla deputata Aiello. Prego, se è sull'ordine dei lavori, prego. Presidente, per meglio seguire le risposte, poiché ci sono molte domande, è possibile... Ho capito, sì, sì, va bene, allora diamo immediatamente la parola. Ma chiedo scusa alla collega, ma... Allora, prego, se volete rispondere. Allora, senatore Grasso, per quanto riguarda i viaggi americani, per quanto riguarda i viaggi americani, le posso dire che direttamente con me ne parlò mio padre ed era veramente soddisfatto perché, appunto, di questa missione, questo me lo disse prima di partire. Prima di partire, a luglio, io tornavo da un viaggio, tornavo da un viaggio e in macchina mi disse, sai che papà ora deve andare in America perché finalmente, dice, incontrerò Tano Badalamente. Finalmente vuol dire per delle indagini. Quindi la sua soddisfazione c'era. Lui raccontò ai suoi colleghi e ai suoi colleghi dell'esito positivo dell'esito positivo dopo il ritorno del viaggio effettuato a dicembre del 94. Uno di questi suoi colleghi, al quale raccontò mio padre della vicenda, dell'esito, e appunto esprimeva questa sua soddisfazione, era l'allora capitano Giovanni Baudo. Diciamo che con i familiari, con gli amici più stretti, magari non scendeva tanto nei particolari, ma lo diceva spesso. Sono veramente contento di come sia andato questo secondo viaggio. La preoccupazione del terzo viaggio nacque dopo la trasmissione temporale di Santoro perché lui capì che questi attacchi gratuiti e il ritrovamento del cadavere di Brugnano e l'eliminazione del suo nome da questo viaggio mi hanno fatto capire chiaramente che uno, era stato messo da parte appunto dall'arma, due, che il suo obiettivo non esisteva più, non avrebbe più raggiunto il suo obiettivo e badalamenti non sarebbe mai più venuto. Per quanto riguarda ciò che ha detto lei sul coinvolgimento della CIA che ha aiutato, secondo badalamenti, la CIA ha aiutato i corleonesi nella famosa guerra fine 70 e inizio 80 per salire al potere. Questo avviene nel colloquio investigativo avvenuto nell'ottobre del 94. Nello stesso colloquio il mio padre espone la sua tesi a Gaetano Badalamenti sull'omicidio del giornalista Mino Pecorelli in cui veniva esclusa la presenza della banda La Maiana e veniva escluso anche il coinvolgimento di Giulio Andreotti. Badalamenti anche sempre nell'ottobre del 94 confermò la tesi la tesi di mio padre però diciamo che non aggiunse altro avrebbe dovuto aggiungere tanto altro perché ripeto lui Badalamenti non sarebbe venuto in Italia per pentirsi perché non era sua intenzione arrivare al pentimento poi magari quello che succedeva non lo sappiamo ma lui qua non sarebbe venuto ma sarebbe venuto e lo ha detto chiaramente a coloro che erano i presenti in America che avrebbe voluto un confronto diretto con Tommaso Buscetta perché quest'ultimo lo raccontò ai magistrati di un incontro avvenuto in Brasile con il boss il quale gli raccontò appunto come era andato il delitto di Mino Pecorelli oltre logicamente all'omicidio di Pecorelli si sarebbe confrontato sempre con Tommaso Buscetta anche riguardo alla morte alla scomparsa di Mauro De Mauro e avrebbe voluto confrontarsi anche con il pentito Salvatore Palazzolo al processo della morte di Peppino Impastato questo è quello che veniva detto prima nei due viaggi americani per quanto riguarda il momento così come dice lei che dietro ogni omicidio giustamente c'è sempre un momento ripeto non non sono qui a fare lo stesso errore che è stato fatto in passato perché io non dico questo è stato un omicidio ma posso tranquillamente dire che non è stato un suicidio come io posso dire che non è stato un suicidio come gli altri non possono dire con certezza che è stato un suicidio il momento perché lei mi ricordava appunto il passo della lettera la mia delegittimazione sta nei viaggi americani io come ho detto poco fa Lombardo non si occupava solo della trasferta di Badalarenti guarda caso un paio di anni dopo la morte di mio padre venne fatta una grande operazione nel palermitano dove vennero arrestati tantissimi fiancheggiatori della famiglia ebrusca e le indagini partirono appunto dal maresciallo Lombardo il maresciallo Lombardo non si occupava solo di un caso chi ha lavorato con lui può venire a confermare ciò che io dico il maresciallo Lombardo ripeto per l'ennesima volta si occupava dell'omicidio Pacorelli della trasferta di Badalamenti della cattura perché era una sua fissazione il suo obiettivo infatti come ho sempre detto non era quello di catturare Totò Rina il suo obiettivo come disse pure Totò Cangemi ai magistrati era quello di catturare Rina, Provenzano Bagarella e Brusca e dopo di andare in pensione venne effettuato mentre lui era in vita solo ed esclusivamente l'arresto di Totò Rina come ho ricordato poco fa c'è stata anche la telefonata alla vedova Borsellino dove lui dice che stava arrivando alla verità quindi oltre all'omicidio di Pacorelli alla trasferta dei badalamenti alla cattura di Brusca perché la sera in cui venne ucciso Brugnano loro si dovevano incontrare loro due si sarebbero dovute incontrare appunto per poter arrivare perché Brugnano serviva al marescio Lombardo per arrivare alla cattura di Giovanni Brusca cattura che quasi quasi avvenne sempre nel territorio Terrasini qualche anno prima scappò sia Giovanni Brusca che il fratello scapparono con la moto da un hotel nel territorio di Terrasini nel hotel villaggio città del mare quindi come vi ho spiegato poco fa Lombardo non indagava solo su un caso quindi io non posso dire che Lombardo è morto solo esclusivamente per i viaggi americani ma i viaggi americani hanno contribuito alla sua eliminazione e ripeto e sono più che sicuro perché con con il passare del tempo ho sempre maturato questa certezza che le coincidenze le coincidenze non esistono perché non può essere una coincidenza che mio padre viene accusato in una trasmissione in cui l'argomento era un altro si è abbandonato l'argomento magari in cui devono parlare di una presenza del fenomeno mafioso a Terrasini loro abbandonano quell'argomento per attaccare mio padre e ciò che io dico viene confermato anche da Santoro perché durante la trasmissione Santoro dice non si sta parlando dell'arma ma di un carabiniere quindi un carabiniere quel carabiniere era mio padre non è stato fatto in nome comunque ricordiamo voglio ricordare però che la denuncia la querela fatta di mio padre fatta da noi nei confronti di Orlando e Mele viene archiviata mentre nella stessa puntata viene accusato sempre di collusione con la mafia il capitano Baudo che allora lavorava a Cagliari lui espone la sua la sua denuncia in procura in procura a Cagliari e guarda caso il sindaco Mele perché Orlando non parla di Baudo parla solo il sindaco Mele accusa soltanto Mele il capitano Baudo Mele viene condannato ma scusa mi scusi senatore ma come fa essere condannato a Cagliari è la stessa causa anzi ancora più pesante viene archiviata a Palermo e a Roma penso che il reato sia uguale sia uguale in tutta Italia quindi poi abbiamo anche l'omicidio abbiamo l'eliminazione dei viaggi americani quindi il movente parte e ripeto parte del movente può essere pure quella parte della lettera in cui viene scritto non so da chi se la procura farà sicuramente anche i suoi accertamenti vedremo da chi è stata scritta quella lettera ma la mia delegittimazione esterna viaggi americani è una parte dei cosiddetti moventi che portano all'eliminazione fisica del maresciallo Lombardo ripeto vedremo e io mi auguro di arrivarci vedremo se sarà corretto parlare di omicidio o di suicidio ma al momento al momento sicuramente non si potrà non si può parlare di suicidio se io dico soltanto questo perché non c'è nessuna certezza quindi le stesse probabilità che ci sono del suicidio ci saranno anche per il suicidio mi sembra molto più grave un omicidio all'interno di una caserma un suicidio può anche avvenire l'abbiamo avuto fino a qualche giorno fa giusto un suicidio da parte di esponenti dell'arma ma un omicidio all'interno di una caserma è molto molto più grave ripeto non sono io a dover trovare il momento o far capire agli altri se è un omicidio o un suicidio ma il lavoro deve essere fatto bene io chiedo soltanto questo non è che dico deve essere omicidio e voi dovete scrivere questo ma non potete scrivere suicidio e avere la certezza del suicidio giusto io dico questo senatore io so se c'era un movimento se c'era un no 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 io dico io dico che posso dice che non c'era no 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 io dico è inutile io non voglio mettere parole che magari logicamente possono farmi credere pure la lettera del marzo 2015 per concludere perfetto e allora sia a me tramite il mio ex avvocato l'avvocato Gian Giacomo Palazzolo arriva in forma anonima una relazione dei servizi segreti ma una relazione con scritto scritto nome e cognome di chi l'ha stilata nome e cognome e in questa relazione scusi presidente possiamo segretare grazie 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 mi porta indietro di 30 anni. Col permesso del Presidente, si è parlato fino adesso del Marasciallo Lombardo come un ottimo investigatore, come un'ottima persona. Io invece, se mi permettete, vorrei fare un apprezzamento diverso, quello che era l'uomo di vostro padre, perché io ho avuto la fortuna di conoscerlo il 26 luglio 1991, perché come avete detto voi, vostro padre era il comandante della caserma di Terrasini, dove io sono stata portata per la prima volta a conoscere Paolo Borsellino. In quell'occasione ho conosciuto Paolo Borsellino, ma anche vostro padre. E' vero, lui non si fidava di nessuno, perché dopo quel primo incontro, io sistematicamente dal 30 luglio a metà settembre, sono stata interrogata dentro quella caserma e lui mandava via tutti i carabinieri, rimaneva solo lui. I carabinieri stavano fuori nel piazzale tutto il tempo in cui io venivo interrogata lì. Lo stesso fu per Itatria, ma non so se sapete, in quella caserma non ci passavano solo persone dell'arma, magistrati, ma anche tanti collaboratori di giustizia. Quella caserma era il punto di riferimento di Paolo Borsellino e gli suoi ufficiali di PG di Marsala che andavano fino a Terrasini, in quella caserma, a interrogare persone come testimoni e collaboratori. Volevo sottolineare questo proprio per dare valenza a quello che hanno detto i figli del Marasciallo perché l'ho vissuta di prima persona. Dopodiché ho conosciuto anche vostro zio, Canale, Braccio Desto di Paolo Borsellino, che insieme al Marasciallo Lombardo era quando c'era la stesura dei verbali delle mie denunce. Volevo farvi, facendo questa permessa che mi riporta piacevolmente, in un periodo brutto però dove ho conosciuto persone di alto valore e che ora non ci sono più, ringrazio il Presidente che mi ha fatto fare questo preambolo e volevo porvi qualche domanda. La prima domanda è, il PM che si è trattenuto i fascicoli che voi avete chiesto e poi avete trovato solo un foglio, facciamo la segretata.